Buongiorno e benvenuti su meteogiuliacci.it. Domani, domenica, 23 dicembre, la nuvolosità della perturbazione che transiterà a nord dell'arco alpino porterà un cielo in genere nuvoloso su tutte le regioni centrosottentronali, ma con pochi fenomeni significativi. Andiamo a vedere l'immagine del satellite virtuale. Vedete la nuvolosità che ricopre il cielo proprio di tutta l'Italia centrosottentronale, mentre soltanto le estreme regioni meridionali rimangono con un cielo in genere poco nuvoloso. Il tempo allora per la giornata di domenica vedrà in condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, sul medio e basso versante adriatico, sulla Calabria, sulla Sicilia, nubi invece sul resto dell'Italia con qualche debole pioggia o piovigine tra il Genovesato e lo Spezzino e qualche debole nevicata sull'arco alpino a quota superiore ai 1.600-1.800 metri. Segnaliamo sempre le nebbie sulla Val Padana, diffusa soprattutto sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna e sul Veneto. È in parziale dissolvimento durante le ore più calde della giornata. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno in lieve aumento e su valori per lo più compresi tra 7 e 11 gradi al nord o fino a 15 gradi in Liguria, tra 11 e 14 gradi al centro, tra 12 e 16 gradi al sud e sulle due isole maggiori con qualche punta di 17 gradi sulla Sardegna. Termino qui, vi ringrazio per l'ascolto. Ancora una buona giornata.